Buongiorno, troppe volte si sono fermati in un aeroporto nel pannello delle partenze, tanto che spiettavano il vostro avion. E se vi dici che è probabilmente che l'avete fatto un giornale? Per davanti ogni dubbio, e per imparare di nuovo, io devo chiamare su qualcuno di studiato. Chiamiamo che i due di uno! Pantazzi, benvenuti a Pesaries, un paese famoso in tutto il mondo per la tradizione artigianale della produzione di orloi e delle industrie solari. In prima volta erano piccole farie costruite sul rio Pozzale. Inoltre facevano il nome Orlois Pastors, ma tra i secchi è diventata sempre più grande e voi è un'azienda di nomine internazionale. e avrete capito che vuoi chiacchieremo di orlois e territori. Oggi facerai qualche domandotte, che vinceremo il portaciasi un premio, che vinceremo il portaciasi un premio, che vinceremo per cercare dove è la tradizione degli orlois. Sei pronti? Non vi ho detto l'ora? Eh? Buon, puoi intaccare. Pesaries hai una frazione di c'è comune. Ovaro? Prato! Vai Luca studiato! Dal centro del paese ci sono incettanti orlois monumentali. Troppo sono! Quindici! Dodis! Gli orlois da Solari, io chiedi in enti all'aeroporto da s'grande città dal mondo. Saveso di me un? Facile! JFK di New York. Bulo Vecchio! Belfast! Concesso e non è al conosciuto il Tianal Pedarci. Val Tagliamento! La Val d'Altimp! C'è molto acclamato gli abitanti del Tianal Pedarci. Pesarini? Fai lì! Mai acclamare pesarini anche dal Tianal. Che chi ha solo che da pesaria. Pesarini? Buona intuizione, Mattia. Mi sa me però di essere stato molto buono finché ora. Facciamo il più difficile che giù. In Tianal, ogni Tianal ha un suo nome particolare. Come si dice il nome di 6 Tianali da Tianal, Cucca l'indovina di Plui, Gnove regolute, A tiappe 5 pons nezze. Uelà! Tianal Pedarci. Val Pesarina. Valdare il Furlanz. Folch e Titrai. Tianal di Guard. Val Guardina. Valdegano. Tianal di San Pieri. Val San Pietro. Valle, Valle, Valle del Paradiso. Tianal di Lumiei. Valle Lumiei. Valle del Fuoco. Tianal Petec o Tianal di Socleo. Valle del Tagliamento. Valle... Occhiali. Tianal di Inchiaroi. Valle di Inchiaroi. Valle in Carrozza. Forse non lo sapete, ma vi ho appena nominato gli affluenza di arnei principali del Tianal. Oh, bello. Ben fatto Federico, tu sei stato proprio bravo. Tu ti meriti un bel tocco di formali della smalga di Cassù. Beh no, mangiare e morire. Invece tu, Mattia, vieni con me, che ho iniziato i tocchi di un orloi e non sicuro un come quello che tu sei intorno. Ma che fatica! Non trovo niente qui. Un aiutino? C'è aiutino. Plano e bene. Che a fare le cose di corso non si combina mai nulla di buono. Eh sì, vabbè. Bravo, bravo. Pruts, hai ore di là. Ma prendi stian pa, frage il polojar e iscriviti al canale. Caso. A presto! Buon giorno, ma prendi sti una scola. Va bene, la tua fai sarà bella. E' un viore, hai o il viore. Grazie a tutti.